A ribaltarle dura. Io domani andai a lavorare. No, è pesantino Ciccio, fa il bravo. Lascialo così che passiamo di qua. Perché lui lo voleva ribaltare là. Dai su! Dai cazzo! Dai ribalta! Pieghiamo sta schiena. Pieghiamo sta schiena. E' in più di quello che dovevo fare. Dai su! Domani comincia alle 9. Quando io torno indietro... Vai a lavorare! Ma che sei già morto? Dai! Dai tutti! Aspetta, è pronto? Uno, due, vai! Ho c'è il piede! Ho c'è il piede! Che così va bene? Ma sei fuori, buttalo giù! Era meglio prima! No, buttalo! Ci sta! Adesso lo faccio io, lo butto giù! Esatto! Faccio lo Stefano da solo, guarda! Adesso mi concentro! Cegli la telecamera! Riprendilo bene! Riprendilo bene! Oh! Oh, è fattibile! Adesso si che abbiamo fatto l'autostrada! Abbiamo fatto l'autostrada! Questo che è scherzo! Sì, adesso è anche scherzo! Che è quello che ti aiuta? Che è scherzo! Bravo! Va bene! A posto! Via! Dai! Via! Fuori di coglione adesso! Via! Se ho già dove tagliare la gomma, subito! E poi prendi questo in mezzo alla faccia! Guarda! No, no! È perfetto! Ci stai qua adesso! Va bene!